Mi piace Illidan la tua vemenza e la tua carica emotiva Non servirà un cazzo nella vita in generale, lo sai? La grande carica di Illidan è non siete pronti Non serva un cazzo Comunque Arson non è coerente Cioè? Perché puoi giocare Gouldan e puoi giocare Illidan? Quando? Quando Illidan l'ha ucciso a Gouldan? No, io non lo capisco Ma, ma tu ti rendi conto che questo non c'è tra un cazzo World of Warcraft? Sì, lo so È solo un sentimento, diciamo, qualcuno che te lo giocava a credere, non c'è niente Non c'è un gioco per bambini Ma c'è, è naturale Ma è naturale, cazzo C'è l'armi questo? Ma potrebbe Ma ti dice veramente ogni tanto casco dalla sedia, no? Sono riuscito a sbloccare, adesso si si piega Oh no, sono molto contento Tra le Garrosh, Garrosh è morto, tra l'altro ancora campo Giusto che sia morto inoltre, secondo me Fighi di puttana Ma perché anche Uther è morto, cioè, se trovermo di dire tutte Non so se gioca la Melma a sto punto, eh Mi sa che lui è un charme A parte, cioè lui è come il mazzo mio, credo L'unica munizione è la 4-2 Però, secondo me, la Melma qua è fine Faccio Melma a spell a 4, oppure faccio spell a 3 Però poi non posso giocare la spell a 4 A buttare il genio, raga, ancora respira purtroppo Sta zoccola Aia Trall è morto? No, raga, respira Non muore mai, eh Trall è morto, secondo me, su tutti i giochi Cioè, nel senso, un uomo non l'ho mai visto Arson, ma per te lo dico, insomma Cioè, la presenza di Trall è praticamente Cosa nota a tutti Non c'è mai Trall Ma Uther era il padre di Anduin Io molte volte mi scordo Lero Power, mi scordo di Trall Veramente sto dicendo Non mi ricordo che cazzo falli dopo aver visto stronzo di Trall Bastardo figlio di puttana Ehi, Ico Ma Uther era il padre di Anduin Cazzo vorrebbe essere buono, raga Non l'ho scritto Ho giocato proprio in questo spot Anche se mi fanno SMore Ah, no Ma cazzo, fate di che Uther è il padre di Anduin, raga Ma quanto caccia ti ha fatti Sarà una meme, dai Io non so se prendere i Silence O meglio, non so se giocarlo adesso il Silence Rexar, raga Boh, l'ultima volta che l'ho visto è stato Endrenor C'è, c'è Rexar, c'è anche lui Pesca, si è due op a uno Questo lo facciamo su qualcosa che c'ha i libri dentro Non mi tocca di Rexar comunque Rexar è veramente uno di più assunti e bello di tutti C'è, in senso Rexar non si è tocca Già, è il padre di Anduin Rexar è intoccabile Doppio libro Dai, amore Doppio libretto E facciamo festa, cazzo Che organizzo un Epic Glory Hall Al buio Mi dissocio No Praticamente non so se sapete In California Grazie mille Wizard C'è un buco nell'acqua No, warrior No, wizard Rincoglionito Ha detto ebbe, è welcome blizzard Ha detto Ho detto blizzard quando si tratta di altri giochi Si Potrebbe andare comunque sempre peggio Dai, metti Posso abbonare il migliorino, per favore Metticelo No Metticelo un libro, amore Dai Vabbè Se ce lo mette, ce lo mette Non mi interessa E mettici il libretto Che costa Mettici il libretto Ok Non ci ha messo il libretto Quella è una bella domanda Regà Da Arthas In teoria di Quella di Arthas Ci se la skin Sì Ma Arthas è morto Marthas effettivamente è morto Al massimo mi metti come re delicia Che gli danno al padre di Ico Minchia magari Magari Facciamoci Più danni possibili Il turno della scopa è stato abbastanza interessante Ma manco tutto sto che Io non so se giocare magtheridon Ha veramente tante soluzioni al mio mag Però Il fatto è questo Quando cazzo lo gioco il magtheridon Geppette può fargli giù Beh effettivamente Comunque era un fallineamento Non No non disse Vedo una cosa Oh Tutto l'attelio Ico Ico ce lo vedo più come Come re dei lice C'ha già la Frosmur Che è bellissima Ti manca solo l'elmo Sì Davide È solo che stavamo parlando prima con Axel e Pietro La scena finale C'è Arthas che sta puntando Uther O Uther che sta puntando Arthas che era con i ginocchi E va l'HP E' una bellissima domanda caro E' una bellissima domanda caro Stavamo parlando con un ragazzo Della tua chat Ma ti Porta il rispetto ragazzi Ma ti ho detto che è una bella domanda Mica ho detto Vaffanculo Fili puttana Adesso me l'hai detto Fili di puttana Usa Brasov Brann Non mi ricordo il nome Il 3-2 che fa Insomma A sacco di robe Ma quindi ragazzi Dite proprio che è la scena Quella di Warcraft 3 Essenzialmente Non è roba nuova No Un po' Un po' di tossicume in giro No Dovunque Mi sa che la preparce La vediamo il prossimo anno Niente Io vado Vado Dove cazzo vado Dai Dove cazzo vado Dio caro Ok 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 Ho l'agdiscolo poi Ho letto Ho letto Sì dai Vado di McTheriton Comunque me lo risolve sicuro Però vabbè Lo risolvesse Cioè se non faccio McTheriton qua Non c'ho più un modo Di essere aggressivo Se rimane il 4-6 Bestegno eh Cioè se non mi tratta il 4-6 C'è veramente da bestegnare Bru Trattami il cazzo del 4-6 Non mi fa missa se danni eh A sto punto Regà andiamo faccia C'era ovvio Vado sempre faccia In questo spot qua Se lo fate contro Rogue Non ve lo consiglio Perché ve lo shadow step E mi è già successo Però poi l'ha rigiocato E lì ho detto E la forza d'abitudine Hai capito Vecchio giocatore Di Miracle Rogue Appena shadow step Lo butti subito dentro Il tuo L'heroe Tarim qua potrebbe essere forte Non è in un ottimo spot Però esatto Si spacca Cioè si autodistrugge la board E noi siamo contentissimi Di questa cosa Ok Con quale dei 275 modi Me lo risolve? In realtà c'è una 3 C'è una Spella 5 Se prende le piotte Potrebbe giocare Ehm Come si chiama La zannuncino Capitano Uscu Capitano Uscu Capitano Uscu Questa è Capitano Uscu Come te lo distrugge Amore Ok Sono 4 5 6 7 8 Sono un off Devo scorre già 4 Ah Ico guarda guarda Un off Cosa? Voi vede pure io Riferente a quella cosa lì Non tartagliare Ragazzo Proprio una foto specifica Guarda Quanti ne diciamo nel mazzo Per cercare di trovare l'Ital? Demoni È lo stesso posto In cui l'hanno rinchiuso 4 5 6 C'ho anche la 5 5 Che mi dà l'Ital Quindi pesco prima? Eh ma poi che faccio Questa domanda a fare in culo? È un peccato eh È un peccato Inizio a spazientirmi Ah povero stregone Ok Ma quante sassate tira comunque il Demon Hunter Quello è vero eh Però fa solo quello Tira sassate Nasconde le mani Vabbè questa Serverà per l'8-8 Non ha debaffato tanto Ha debaffato di uno Ma in realtà non ha debaffato ne tre Ci può mettere l'ilo power Capito? Dai andiamo fino a questa cafonata su Eh Eh L'8-8 Si Tira l'8-8 E lascando la mano San Melettese Per dire quelli Tipo Enrico Variancliff Che digano una cosa O ve la mannano Capito? Ed è palese che lo sta facendo lui Però poi alla fine ritrae Dicendo dato niente fa come Muzio Scevola Capito? Non so chi è stato Ragazzi siete problematici quanto me Anzi anche forse peggio Differenza tua Noi lo sappiamo Esatto A differenza mia di siete consci? Sì Ah e io sono piuttosto consci con dei problemi caro Invece non ti preoccuparti Non ne abbastanza Micchia l'amico immaginario mantra ce l'avevo Io ma ce l'ho tuttora Io praticamente la sera faccio a botte contro il cuscino Col mio amico immaginario Chi vince? Il cuscino talvolta Alcune volte il mio amico immaginario Una volta ho vinto anch'io Ma voi lo sapete come mi sono fatto questo taglio Ho varie botte in testa no? Queste saranno anche diciamo conseguenze e causa di quello che sono oggi Tra i vari tagli che c'è in testa Uno è stato proprio In un momento in cui facevo a botte contro il mio amico immaginario Ho sbattuto la testa sullo psicolo Lo spigolo Lo spigolo Lo spigolo Ed è quella volta che ho vinto l'amico immaginario Tutte le altre volte vince sempre il cuscino È un sito dell'amico immaginario? E una volta con il cuscino Sai che c'hanno praticamente quella sorta di cerniere Mi sono perforato l'occhio con l'accetto della cerniera È un momento anche abbastanza traumatico Non lo racconto con gioia Chi cazzo è l'agromo eh Dennis? Quattro danni al turno due te so fatte E appena c'ho l'armata ve lo su Mok Chiedere un certo amico se immaginario è Osiride No raga non è Osiride Comunque lui è il mazzo con Osiride È il mazzo È il mazzo col 3-6 Planata Voto Gradosalla Moderatore del canale Posso dissentire? Sì Non dissento Gradosalla si merita la moderazione del canale secondo me Che ne vengono Sigo? Sì dai Ok Ah non tradi niente tu? Abbiamo bisogno di una mano Visto è quel figlio di puttana di tatillo Se n'è andato Audio Aprevo Audio Lo apro Devo fare pendente no? No non è vero non c'ho Non ho detto una cazzata Cioè hai pensato di avere la Spella 2 che faceva cose Dopo silenzialo non sei Non è una cosa che apprezzo tanto Inizio a spazientare Ma che cazzo Io veramente caro Guarda che hai problemi No ma che cazzo voi Come ha fatto di una meme Pezzo di meme No porta rispetto No scusami veramente dopo quello che ho detto No c'è un figlio di puttana ma te Cioè parli senza pego ma io boh Non merito Non merito assolutamente il tuo rispetto No amore questo te lo silenzio Non ti preoccupa Cioè non ci spera che il 1 te sopravvive Non ci spera Dennis Fia di puttana Ok Devo cercare di mantenere un contenio Però eh Se mi insulta la gente non è proprio nelle mie corde Eh sta ricazzo Che sesso Sono arrivato alla frutta Henry Henry Sono arrivato alla frutta L'ho desilenziato E l'ho insultato verbalmente E poi l'ho silenziato Sono arrivato alla frutta Hai notato questo gesto che ho fatto? L'ho desilenziato Gli ho parlato Come se lui potesse sentire E poi l'ho silenziato Come se effettivamente non sentisse Il mio Oh cazzo Oh signore Non c'ha ragione Ha sempre avuto ragione Non ha sempre avuto una grande ragione Cazzo Tieniamo faccia no? Giù le mani dai miei dati Non lo so Sì raga andiamo faccia Facciamoli sentire un pochino il cazzo Anche perché Se non vado faccia Credo che non vinco Perché Avrà sicuramente più valori di me Io ho una mano abbastanza horrida in realtà Lui farà questo trade E io lo risolvo con la spell a 2 E continuo ad andare di testa Cosa che a me piace molto fare Comunque D'analità reale C'è fratma che ti domanda Ma mai c'hai 2000 legend Eh perché gioco nazi di merda fratma Però ti stai divertendo con il di monazza Mi sto divertendo però tantissimo Alla fine non corto un cazzo E' molto più importante il divertimento E io mi sto divertendo tanto E perché allora lo schifi così tanto? Voglio E' molto male sta roba A me è malissimo cazzo Malissimo Lo faccio no? No regalo non lo faccio Non vinco mai se non lo faccio Perdo Perdo easy proprio Oh comunque ho sentito a dire per il turno dopo eh Scusami se è poco Però potrebbe avvertire hunt L'1-3 però l'ho già giocato Farò tol 200 con questo mazzo Hai sentito? Hai sentito questa cosa? Prodo 200 con questo mazzo Challenger Challenger Ti faccio vedere Arrivo Dovai? A torri da 200 torni? A tra poco Flemip No questo non lo volevi vero? No Nemmeno questo volevi caro Caput Morto Distrutto Chi è stato il vero aggro tramite te? Secondo te? Io Tra l'altro Tra l'altro Tra l'altro perché c'è una seconda mail ma Bah Non è un grosso problema in realtà Ragionaci bene caro Ragionaci bene Oh mo' mi fanno giù un furie e mi hanno detto in culo Ok Aspettiamo No Vabbè Perché sono troppo maturo per fare queste cose Perché sono troppo maturo Altrimenti avrei aspettato la rope Ok Avrei fatto spell a 2 Spell a 2 Avrei Cercato di contestarli i pezzi Per evitare i meno di possibile E poi gli avrei fatto i doni di faccia La maturità Che vi contraddistingue Dopo anni Mi fa invece vincere velocemente la partita Per fare la top 200 Ormai promessa La follia da un'è il carcere Psichiatrico? Ragionaci Dipende dal livello di follia di una persona Cioè noi viviamo in un mondo di gente folle Cioè dovrebbero rinchiutere tutti quanti il carcere psichiatrico Ma chi non è folle? Seriamente chi cazzo non è folle? Ritemi chi cazzo non è folle? Perché siamo tutti folli Amore mio Siamo tutti folli Tutti dannatamente pazzi E meritevoli dell'estinzione Però Abbiamo una cosa che ci contraddistingue Cosa? La bestemmia La bestemmia Tu hai mai sentito un cane dire porco Hooter Un asino Un animale Ogni tanto sì E allora caro vendilo quel cane Che sicuramente farà un sacco di soldi Vedi sì? Eh secondo me sì Se bestemmia veramente quel cane Venilo perché Ti va fare i bei soldi Ora fammi accettare che ho 200 Non è che si grata sola Non è che giocando le carte verte Praticamente ho detto Oddio uomo Oddio odio Oddio Sono completamente fottuto di testa comunque Hai notato? Completamente Fottuto di Di caroni Di senno Di caroni Di senno Di senno Oddio Oddio perché Qua gli spacchiamo il culo Il livello Il livello Becero Oh sozzo che forte Mi piace Amore Mi piace questo mazzo Sono molto contento di averlo preso Abbiamo anche il 3-2 Che contesta i suoi stealth Abbiamo danni Abbiamo Borklear Abbiamo heal Abbiamo la melma Ma c'ha un cost C'ha una cosa il mazzo Che noi non abbiamo Cos'è? La bestemmia caro Non mi pescare preso il flamme Porco di disco Bello cane Bello cane La furia cazzo Oh il l'amore mio Ma i faccia cazzo Vai risolvermi sto cane Mi ho fatto un turno di merda E sono molto contento Di questa cosa Ok Vai vai Deadly Poe Deadly Poe Porco di Dio Male Faccia Faccia Il soffacca Ma veramente Guarda Gioia Veramente Guarda Amore Figlio di puttana Che faccio? Schifo Quello è sicuramente Vero Devo fare la melma Per forza Devo fare Spacco il turno Di Di Dancer La domanda è se voglio giocare in efficienza di mana Secondo me sì Secondo me sì Ok Il turno dopo facciamo lui Teschio di cooldown E poi andando vedendo Non fortunatissimo Per preso comunque tutti I ragazzi A zero Perché mi compromette Due delle giocate forti Che c'ho in mano Non che il box sia da meno Ok Trada Trada Più di puttana Trada Cazzo Trada Sei morto Wow 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 Dai Povero Spregone Quanto cazzo Mi gusta Amore Vai vai Gimmi risorse Dammi risorse Gimmi 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 Dammi Dammi ragazzi Infligge un vana Tu i servitori Gimmi 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 Perfetto Stiamo manifestando Un'assoluta Come che si dice Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Forse forza andava bene Comunque Guarda questo Mi fa come Il cazzaccia La vecchia Come il cazzaccia La vecchia Aud Adesso che devo ragionare Molto È stato molto difficile Insomma Manco trotto Che forte Questa Quanti danni C'ho Sono 4 5 6 7 Una valanga Le vinciamo Altuno dopo No More Questa è per farti capire Che cazzo Vuol dire Un mazzo Veramente agro E consistente Coglione Ti sta facendo vedere Quando c'è il cazzo Grosso Ma che alla fine Non basta Quella è interessante In quale Dei 200 modi Vogliamo far l'idano Bene Oh sto mazzo è fotte Vedo davvero Comunque Porca puttana Sto mazzo è fotte Vedo davvero Enrico chiedo scusa Proprio perché Non ci riepisco Un cazzo Di sto gioco Sto via Che cazzo Dici Una carta nuova Ma che è nuova C'è sempre Me l'hanno delante prima La blizzard ancora mi rispetta Me l'hanno delante prima Sono il loro content creator Ma che cazzo Stai Che cazzo Dici Ah no Me l'ha data la dorata Perché sto arrancando Col demon hunter Cosa che non faccio mai Vabbè Rimetto consumo di mana Come puoi sapere Che hai 281 vittorie colmate Perché sono su E perché dici Che col paladino Non lo so Se stai su arson Eh perché mi dice Devo completare Ah perché non giochi paladino Vabbè non è per tutti Lasciami un attimo momento Per pensare Che Devo parlato Ma che cazzo Vuoi fare Fatte zi Meno male che Ti ho già dato sto mazzo Per avere un po' di contenuto Sul canale Comunque Perché se no Ho un disastro Ok Ok Sono molto contento Che si iniziano a vedere Una quantità di rog Incredibilmente alta Perlomeno Non ci stanno Quei preti di merda Perché sto match up Io contro prete Oh bro Non so se effettivamente Così buono Oh raga Ho piantato La di forma 28 La verità Adverne Se poi puoi passare volume La verità La stramata Ah sei tu caro La potresti concedere Magari funziona No scherzo caro Ma potresti concedere Puttana bestia Lo faccio No 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 Che concedi Stai buono Oh se me la concedi Comunque è fine Cioè nel senso E io che ne so Che cazzo di segreto C'ha Tu credi che sia Un bet così astuto Io ce l'ho Però a trattarlo No Del paladino Mi spaccano il culo Due carte Nobile sacrificio E Never Surrender Però potrebbe essere Anche un bet Che ha fatto E ci ha investito il coin Per betare E' così intelligente Eldrin Secondo me Eldrin E' molto intelligente È molto intelligente Comunque Stai sniper Vabbè Che se ho voluto E' tutto Dalla vita No Edrin Sei uno stronzo Non sei Non sei quello Che pensavo Ok Allora probabilmente È Never Surrender No? Sì È Never Surrender Ed era comunque L'unico Che avevo Per trattarle È doppio Dicche di arma Allora In realtà Per quanto forte è stata La sua start Fortissima Io caro Ti invito sempre A concederla Quora tu voglia Ovviamente Solo In una situazione Di estremo vantaggio Se no Se la so Fammi giocare È da canale Ah se la concedi Puoi andare sul canale Perché se poi la vinci Non la metterai sul canale Cazzo L'imprenditore Pazzesco Veramente Pazzesco Più ce penso Più penso io Sei pazzesco Eh Cosa? Mhm Vabbè bro Dai che counters Per su Ci tengo più A questa A questa Allora Non ti dimostro Codice Ma che cazzo Ne sei che Doci piato Ma Cioè tu mi stai Dicendo Che hai giocato Coin Per i4nei Finito Per repentanza L'hai giocato Eh ma betato Cioè ci sta Comunque Audio Per quanto si Allora facciamo questo E poi questo No? E secondo me Prendiamo un vantaggio Clamoroso Non è del tutto vero Ma si si Porco diavolo Morto Noo Porca puttana Troia Bro sta cosa è fortissima Ma sta cosa è gigante Bene È un disastro È un cazzo Di disastro Di merda Mannagliala No veloce 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 Oh signore Sì ho missato Un rincoglionito No no È sempre ritardo Nei tuoi tempi È sempre ritardo Con i tempi Quello intendeva Twitch Esattamente Ho fatto un ritardo Incredibile con i tempi E quindi sono rincoglionito C'è tua parte che chiede Se vuoi un aiuto Che ti vedi in difficoltà Senza già questa Frostbolt Eeeh Pall'aiuto Me lo devi dare Quando ero piccolo Adesso non serve E che cazzo Non serve un cazzo adesso Quindi se giallo Dove essere più grande Quella volta che sei caduto Ah ah Di che non è vero Non è vero Non è vero Che famo? Perché mo sei cresciuto Che cazzo alla di merda Però Cazzo alla Sei veramente una persona viscida Però Sono viscido anch'io Quindi va bene E' giusto Vabbè Si trova che non esistevano Se facevo l'iropa Bastardo Maledetto Questa è una figa di merda Fatto a fare Eh no Perché questa è una figa di merda Fatto a fare Il ragazzo intelligente Mi ha messo alla cogna mediatica In una situazione Di estremo vantaggio Stavo per concedere io Giuro su Dio Stavo per concedere io Mai Tollono roba del genere Adesso faccio una partita No Adesso faccio una partita E la concedo Allora questa in teoria Possiamo anche Concederla al malligan Però potremmo essere abili A trovare subito i danni Che ci servono per vincere No Cioè io devo trovare Il marrow slice E iniziare a fargli danni Come se non ci fossero domani Bum 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 Dalla vulpera Che purtroppo è in monocopia Devo trovare danni Bum 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 E sperare di vincer Solamente così Senza andare troppo in let Perché il let Poi è finita Lui si cura Prende valore con la secca Trova cure E non è una situazione Piuttosto piacevole Alla fine il prete L'ho beccato E' molto meglio Giocare contro Agro Steltro Anche McTheriton Sta partita Fa schifo Uno si domanda Quindi a McTheriton Chi ci sta a fare nel mazzo Contro Rock fa schifo Contro Mete fa schifo Contro Warrior fa schifo Fa schifo pute contro Paladino Che fa schifo di fondo come mazzo McTheriton non serve a un cazzo Buono solo contro Druido E comunque devi setapparlo Non è che McTheriton Funziona così a caso Che lune ti benedica No speriamo Vedo una casa Ok è arrivata l'arma Ovviamente se non peschiamo un frammento Non siamo noi però Devo fargli veramente tanto male Non so nemmeno se il trade si è effettivamente concesso Ma regà credo Credo di no Insomma c'è al massimo fa apoteosi Ma apoteosi me la farà prima o poi sempre Se me la fa sul 1-2 è quasi buono Ma non credo che la farà È troppo scarso Ok Vabbè vabbè fine È fine è fine Zitto 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 Questa mi serviva prima E si va a faccia Che bello sto mazzo eh Di base È un control Che in realtà non ha niente a che fare con un control A parte vabbè De removal Stupidi È praticamente un agro a tutti gli effetti E qua arriva ragazzo di me Ma fordutissimo Abbastanza Ma arriva Va Questa è abbastanza pulita qua Ok Ha voglia scala la cima eh 23 punti vita sono un'enormità Considerato tutti quelli che ancora c'ha È considerato che si dipende Zebris pure Oddio in realtà gli è morta anche la melma Beh è uguale Cioè in realtà no Meglio che si pia la melma che Zebris Minchia bro non mi concedi niente Coin nero power ok Non mi concedi niente Questa è fine Però mi sa che vogliamo giocare prima questa no Di questa Quindi facciamo lui Facciamo lui Le power faccia 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 Ok ok Questo è il modo per vincere Ora Poi facciamo lei Per avere un 3-3 in più E poi continuiamo a mandare faccia Bella sta usando a faccia Troppo bella Ebbè Questo mazzo Vi Com'è che si dice È terapeutico Poi magari perdete no E fa più danni dalla grandine Però di fondo è quasi terapeutico Ok Oh regà Fine Cioè nel senso Spero non abbia la spell a 7 È lì che Secondo me Mi rompe il culo Cioè attualmente Stiamo dominando La board con sta giocata Con la spell a 7 Si riprende tutto quello Che era nostro Perché non è poco piacevole Però c'abbiamo la tipa Cosa vorrebbe E l'une C'è l'idea ce l'ho Lo vorrebbe l'une Dai fammi roba Amore fammi sognare Fammi sognare Renew anche i sidefunk Sognato poco Famiro power no? Per far più danni possibile 2,4,5,6,7 Non mi bastano porca puttana Cioè mi bastano Ottimi per la spada 2 Ma devo pescare qualcosa Tipo School of G'dan O seconda Lapidari Ovviamente non credo Che li possa fare Galakron qua Bono Ah no perché è vero Invocatori 2 Questa è la carta Esattamente perfetta Che voglio Però ma che mi dai McTerry Vabbè Io non so se voglio far l'arma Perché me la distrugge con Con la melma C'ho l'altra Spende comunque 2 mana La passette No? Inizio a spazientare Ma va Ma va Ma va Se stiamo di aprire il turno dopo Perlomeno no? No in realtà no Però vabbè Cioè se me la distrugge No Se no si Ce la fai non prende Papo Renew Cioè A me ma Vabbè lo sanno tutti Ce l'hai Ma Papo Renew E' quello che mi darebbe Un po' fastidio Cioè Ma perfetto 2 3 4 5 6 7 2 danni Devo farlo comunque no? Cioè lui non deve avere board Altrimenti mi fa Apoteosi e vinci No sto pensando se li butto McTerrydon Guarda che non è male Eh mi sa che io lo butto Sapete qual è il problema? Lui lo potrebbe fare Ehm No non lo potrebbe fare Cioè Cioè la cosa è che potrebbe fare Apoteosi Spella 7 no? Però no Perché Apoteosi Spella 7 Sono quanti? Sono 10 mana Ecco Apoteosi Spella 7 E' vero che li si cura Ma io gli faccio gli stessi danni Che poi lui si è curato Che in italiano vuol dire Che non può farlo Quindi qua deve non solo Spendere del mana Per Trattami 12-12 Che mi auguro non sia Cosciato Bordette Perché ne sarebbero solo 2 Ma deve anche cercare Di capire Come Pararsi il culo Da quella che probabilmente Sarà la nostra vittoria Il turno dopo Grazie Ci sei poi per Raid Shadow Legends Muore vuoi giocare E' un gioco bellissimo Hai misciato lì Comunque Non è assolutamente vero Sta 4 Due danni E poi? Che gli facevo? Due danni più una 3 Cioè in realtà L'io Paolo l'avevo già fatto Ehm ok Oh L'unico che vince con il tuo prete Essere incazzato Come una bestia Pulirli in bordo Con la spell a 2 Per evitare apoteosi E poi godere Del fatto di averlo distrutto Ah sto comendo un poco In realtà Ah vabbè Le schifezze Non so se tu Lo conosci Oppure no Ma gli spacca i culi Con il buratello Bro C'ha le carte Fanno parte Di un giochino In cui non crea delirio E arte Ehm Giocare sono Atrix